Eccoci con la quarta e ultima parte del TV Sport, quella dedicata alle altre realtà sportive del territorio. Oggi faremo il focus sul Muay Thai. Non so se l'ho detto bene, ora chiederò ai miei ospiti perché con me ci sono l'atleta Mattia Fato. Buon pomeriggio. E anche il suo maestro, il maestro Renzo Tagliente. Buonasera. Buonasera a tutti. Ho detto bene, ho pronunciato bene? Sì, sì, è giusto, è giusto. Muay Thai. Muay Thai. Mattia, io vorrei iniziare a parlare con te perché tu ha solo 16 anni, sei riuscito anche ad ottenere un bellissimo titolo. Quale? Raccontami un po'. Allora sì, il 2 dicembre siamo riusciti a conquistare questo titolo. Abbiamo fatto un evento a Bari, il maestro ha organizzato un evento a Bari. Siamo riusciti a performare e quindi a portare a casa un titolo importante, il titolo da UBC Under 18, che comunque è un gran risultato. Fallo vedere, questa è la cintura che hai vinto, giusto? Sì, sì. Bellissima. Cosa provi quando magari vinci contro ragazzi più grandi di te? Perché se non erro la gara era Under 18, giusto? E tu hai 16 anni. Sì. Sicuramente è un'emozione unica perché ci si sente ricompensati dopo tutti gli sforzi e sacrifici che si fanno durante la preparazione, durante l'allenamento. Quindi è comunque un'emozione che pochi sport possono dare e secondo me questo in particolare può darti più di molti altri. Parliamo adesso con il tuo maestro. Maestro Renzo, raccontami un po' il Muay Thai, per chi non sa in cosa consiste questo sport. Allora, la Muay Thai è un'arte marziale che nasce in Thailandia. Si differenzia dagli altri sport perché in più ci sono dei colpi di gomito, di ginocchia, oltre ai pugni e calci. E c'è anche una fase di lotta dove si sono ammesse delle proiezioni. Rispetto agli altri sport è un po' più completa, anche per una questione di difesa personale. Sì, tipo box, kickboxing, no? Non proprio, però ci sono più parti del corpo, sì, sì, molte più parti del corpo. Mattia, perché hai scelto questo sport? Non è uno sport magari che scelgono tutti, no? Quindi che cosa è che ti ha spinto a portare a praticare questo sport? Allora, sì, io nel maggio del 2021 inizio ad allenarmi con un mio amico per gioco, diciamo, andando a correre la mattina presto e cercando di provare a bozzare una specie di allenamento, di sport da combattimento. Poi quando finì il lockdown, con l'apertura delle palestre, provai ad iscrivermi appunto a questo sport e effettivamente mi piace tanto, tanto che decisi di provare l'attività agonistica. E poi da quel momento ho continuato. Quindi nato per caso, diciamo. E sei rimasto, rimarrai immagino anche per molto. Poi parliamo dei tuoi obiettivi. Prima però vorrei parlare di pallavolo e vorrei parlare della serie A3 nella quale la Just British Bari vince contro Leo Schuss Casarano. Il risultato 3-0, la prossima partita si svolgerà domenica 28 contro San Giustino. Passiamo alle squadre di serie B, tredicesima giornata di campionato, l'Indeco Molfetta vince il derby contro il Turi. Punteggio finale 3-0. Il Grottaglia ancora capolista, mentre attende l'uscita del calendario della Coppa Italia, continua a mantenere l'imbattibilità assoluta in campionato. 12 su 12, l'ultima contro Afragola per 3-0. Le altre vittorie come quelle di Gioivoli contro Ruffano per 3-0 o El Modugno che vince per 3-2 contro il Marigliano. Ecco qui le immagini. Poi però, meno affortunata, c'è stata la SNS Cusbari che perde per 3-0 contro la Green Bolli. Vediamo anche ora la classifica. Approfitto per comunicarvi che ci sarà una sosta del campionato di due settimane e il campionato riprenderà il 10 febbraio. Torniamo a parlare di Muay Thai. Maestro, quali sono i valori di questo sport? I valori di questo sport in primis abbiamo il rispetto. Il rispetto per l'avversario, il rispetto per il maestro. Il rispetto è fondamentale perché, nonostante tutto, magari chi lo vede da fuori questo sport può pensare che sia uno sport violento. Assolutamente no, anche perché è uno sport che può praticare chiunque, dal bambino che consiglio ai bambini di praticarlo, consiglio ai genitori di farlo praticare ai bambini, fino ad arrivare alle donne. E quindi dico, il rispetto è fondamentale. Si cresce tutti insieme ed è rispetto, perseveranza, passione. Ci vuole tanta umiltà per praticare questo sport. Hai detto che non è uno sport aggressivo, però comunque io vedo che un po' malino ci si fa, no? Mattia, ti sei mai fatto male? Hai paura magari di farti male? Allora, paura di farmi male? No, perché comunque quando si sale sul ring l'unica paura è di non performare, di non riuscire a portare a casa la vittoria, diciamo. Però può succedere ovviamente di farsi male, ma non bisogna avere paura, perché se si ha paura di farsi male non si può fare questo sport, secondo me. Come vi preparate allora alle gare? Te come maestro e te come atleta? Allora, con lui c'è tutta una preparazione che viene fatta prima. Facciamo un allenamento ai colpitori, dove è come se fosse uno sparring, lo sparring è come se fosse uno contro l'altro, no? Quando si fa allenamento. E quindi c'è tutto questo lavoro fatto non soltanto di un singolo round, ma ci sono diversi round da tre minuti che ci porta a fare questo tipo di lavoro. E poi c'è un lavoro di sparring partner con gli altri ragazzi con cui lui si allena, poi lui va a correre. Insomma, c'è un allenamento non da poco dietro, se uno vuole performare in una certa maniera. Cosa è la cosa che ti piace di più degli allenamenti? No, ci mancherebbe. Cosa è quello che ti piace di più? Sicuramente lo sparring, comunque i lavori che richiedono una certa abilità tecnica, oltre che magari la corsa che mi piace molto perché anche a livello mentale è molto, diciamo... Importante, no? Sì, è molto importante. Tutto parte dalla mente anche per superare... Ostacoli. Esatto. La cosa che invece ti piace di meno dell'allenamento? Bah, niente in realtà. Cosa che magari per te c'è più difficoltà, qua il tuo maestro ride, quindi sicuramente qualcosa... No, rido perché lui è uno dei pochi che nonostante l'età è sempre lì, sempre in palestra, io dico sempre, meglio in palestra che non per strada, quindi lui poi è uno di quelli che sta sempre lì, si allena, ha le idee chiare, nonostante la sua età, solo di 16 anni, secondo me ha le idee chiare. Poi abbiamo visto anche nell'immagine che utilizzate i guanti, giusto, per scegliere il guanto perfetto, cosa deve avere questo guanto per te? Il guanto perfetto è una cosa molto soggettiva, secondo me, io infatti ho avuto anche diversi problemi alle mani, a causa di comunque guantoni sbagliati o la troppa ripetizione dei colpi, diciamo. Il guanto perfetto è una cosa prettamente soggettiva e non si può dire altro. E non si può dire altro, perché per esempio per altri sport, come per esempio l'atletica, il running, c'è bisogno appunto di scegliere la scarpa giusta e per questo il nostro Michele caro figlio ci farà conoscere assieme allo store manager di Sport Club Vittorio Varviero quali sono le scarpe adatte alla corsa, quindi sentiamo qua un attimo. Partiamo dalle caratteristiche di una scarpa da running, come è strutturata? Allora, dipende dai modelli, dipende da tante le dinamiche di corso, di quante volte ci alleniamo in settimana, cioè non è facile rispondere a questa domanda, in quanto le scarpe si suddividono in tre fasce, quindi una massima ammortizzazione, un'intermedia e una veloce per tutti quegli allenamenti di velocità. Poi è ovvio che dipende da ciò che desidera il cliente. Diciamo che la scarpa da running si sceglie in base, prima di tutto, a cosa dobbiamo fare, se dobbiamo fare una gara di corsa su strada oppure se dobbiamo fare una gara di corsa sullo sterrato, quindi una gara trail. È ovvio che la scarpa da trail ha un battistrada diverso da quella da strada. Sulle gare di strada ci sono vari tipi di dinamiche, quindi in base alla velocità di un atleta, in base a quanto pesa. Che scarpe da running consiglieresti per un atleta professionista? Beh, bella domanda. Per un professionista è sicuramente una scarpa molto veloce, una scarpa veloce, una scarpa con una piastra in carbonio, così gli dà un po' di reattività. Però l'atleta professionista può correre anche senza scarpe. Più o meno un professionista fa 200 chilometri a settimana, quindi parliamo di tanta roba. Certo, ci sono anche tanti amatori molto bravi, molto in gamba, quindi le scarpe reattive vanno tutte per quella fascia di atleti veloci, che hanno un'andatura dai 4 a scendere, da 4 minuti a scendere a chilometro. Voi di Sport Club che scelte potete dare al cliente? Beh, diciamo che noi di Sport Club ci distinguiamo perché il cliente lo serviamo a 360 gradi, infatti facciamo un esame barapodometrico dove andiamo a vedere il tipo di appoggio e da lì poi partono tutte le dinamiche per consigliare la scarpa ideale per correre bene e nel tempo. Nel running abbiamo tutti i marchi di qualità, quindi partiamo da Asics, Oka, Adidas, Saucony, Mizuno, Brooks, New Balance, ce le abbiamo tutte, quindi ha una vasta scelta. I saldi di Sport Club, sconti dal 30 al 60% sull'abbigliamento Nike, Adidas, Puma, Under Armour, inoltre grandi saldi su scarpe da running, tennis e paddle, Asics, Brooks, Oka. Visitate il Megastore a Bari in Corso Cavour 116, i saldi di Sport Club. Grazie mille a Michele Calofiglio, comunque la prossima volta devo chiedere anche consiglio per quanto riguarda il rugby, per le scarpe di rugby in base ai terreni, però lo faremo la prossima volta. Io però voglio parlare con te, maestro, perché volevo chiedere la palestra, qual è la storia della vostra palestra, dove si trova? Allora, la palestra è stato un sogno realizzato, perché è nata nel 2017, la palestra si chiama CSC Combat Sports Center e si trova di fronte Pane e Pomodoro, per chi è di Bari la conosce bene. Ripeto, è stato un sogno che è nato nel 2017 con un mio socio, ci tengo a dirlo, che si chiama Claudio Moruso, che poi è un ragazzo che mi segue dalla sua età, e ha iniziato con me quando lui aveva 16 anni, quindi come Mattia. E poi pian piano mi ha seguito, ha fatto un percorso e siamo riusciti insieme a realizzare questo vero sogno. E siamo attivi dal 2017. Dal 2017, Mattia tu hai iniziato, avevi detto, nel 2021, tanti ragazzi si avvicinano e anche ragazze, avevi detto, abbiamo visto anche in diversi vidi che ci avevi mandato e che ci sono anche delle ragazze. Molte ragazze che si avvicinano anche ai combattimenti, a volte sono piuttosto le ragazze dei ragazzi. E' vero? Sì, sì. Allora, parlando di combattimenti, vorrei chiederti, quando gareggi, se vieni sconfitto, in chi trovi conforto, come realizzi tu magari la sconfitta? Ovviamente quando vinci, diciamo che questo ti stimola ulteriormente, però anche la sconfitta come la percepite? Sì, sicuramente la sconfitta io penso che debba essere presa come un insegnamento, quindi una lezione per provare a fare di meglio. Però comunque è importante sempre avere di supporto persone che sia al proprio fianco, come appunto il maestro, la famiglia, gli amici, che anche nel momento di sconforto diciamo, sono al tuo fianco. Parliamo dei prossimi obiettivi, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Sicuramente continuare a vincere tutto ciò che è possibile e poi sicuramente anche passare al professionismo. Ma c'è qualche combattimento di recente? Sì, il 4 febbraio combatteremo a Lecce. A Lecce il 4 febbraio, mi raccomando che poi ci devi raccontare come è andata, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Per te maestro, invece, la palestra farà qualche evento, qualche sedizione? Sì, il prossimo evento lo faremo sicuramente in quest'anno, penso verso dicembre, dove organizzeremo sicuramente altri titoli e penseremo anche di fare qualcosa in più per Mattia, che se lo merita. Che se lo merita. Ragazzi, grazie mille, grazie per essere stati oggi qua con noi e averci raccontato appunto di questo sport. In bocca al lupo per il 4 febbraio. Noi ci vediamo domani con un altro appuntamento di TV Sport.